Rimanendo in tema di agricoltura attenta all'ambiente, andiamo in casa del consorzio agrario di Treviso e Belluno dove in queste ore si è svolto un open day davvero particolare che ha presentato anche il nuovo bando del piano di sviluppo rurale che premia chi? Beh, premia gli agricoltori green. Vediamo. Circa 140 milioni di euro per le imprese agricole, dei quali quasi un terzo destinato al finanziamento di investimenti in tecnologie green. Queste le anticipazioni del nuovo bando del PSR Veneto 2014-2020 in uscita entro la fine del 2016, illustrate nel corso di un convegno organizzato dal consorzio agrario di Treviso e Belluno con la partecipazione del personale di Avepa, l'agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura. Questa nostra iniziativa vuole cercare di dare delle informazioni in collaborazione con Avepa anche molto pratiche, quindi sulle attrezzature ammissibili, sui punteggi sulle accortezze da avere sia anche per l'analisi finanziaria di sostenibilità da fare, quindi un qualcosa di teorico ma anche molto orientato a una guida pratica per gli imprenditori. Sulla base dei dati registrati con il precedente bando, i tecnici di Avepa hanno previsto che la prossima misura del programma di sviluppo rurale sarà finanziata con circa 140 milioni di fondi europei con la possibilità delle imprese agricole di presentare domanda per i finanziamenti attraverso un sistema di graduatorie. A farla parte del leone sia in termini di entità del finanziamento che di punteggi in graduatoria sono gli investimenti in macchine e attrezzature agricole che riducono l'impatto ambientale, che migliorano il benessere animale e favoriscono la conservazione del suolo. L'Unione Europea focalizza quello che sarà il futuro del rapporto tra l'agricoltura e il territorio. Quello che facciamo noi è quello di mettere a disposizione la strumentazione e soprattutto quella premiante, quella che guarda l'innovazione, quella che guarda la parte futura rispetto delle aziende che hanno la capacità sia di produrre e di reddito per la propria attività ma sia anche di rispettare il contesto e la crescita del territorio dove sono inserite. Una categoria di investimenti finanziata per il 50% della spesa ammessa e premiata con il massimo punteggi in graduatorie qui appartiene ad esempio una macchina come Grass Killer innovativa diserbatrice al 100% ecosostenibile realizzata dalla veronese Caffini e commercializzata in esclusiva dal consorzio agrario di Treviso e Belluno. In sostanza è una sorta di idro-zap ovvero andiamo a controllare le malerbe utilizzando la sola pressione dell'acqua quindi acqua a temperatura ambiente a mille bar di pressione che ha l'obiettivo e quello di riuscire a distruggere e a demolire il germoglio dell'infestante. Gli interventi sono solo due questo è un altro vantaggio rispetto ad altre elaborazioni quindi tre ettari l'ora tre ettari al giorno più o meno ma solo due interventi hanno. Nuove tecnologie su cui investire grazie ai fondi del PSR ma anche un ricco campionario di attrezzature le macchine più tradizionali. Questa è la ricca offerta dell'open day del consorzio agrario di Treviso e Belluno appuntamento annuale che quest'anno si è svolto a metà tra la fiera internazionale EIMA di Bologna e la fiera dell'agricoltura di Santa Lucia di Piave. Con le porte aperte annualmente proponiamo alla nostra affezionata clientela anche le solite macchine trattori agricoli con innovativi motori TR Stage 4A e 4B e saremo presenti e faccio un anticipo anche alla fiera di Santa Lucia con il nuovo modello proveniente da EIMA 2016.